Cari amici di quotidiano.net, bentornati per parlare di politica, di referendum, sono le 16.37 del 13 giugno, lo spoglio è ancora in corso ma il dato è inequivocabile, una valanga di sì ha decretato la vittoria per tutti e quattro i quesiti che erano stati sottoposti all'attenzione degli elettori italiani dai comitati promotori e soprattutto ciò che colpisce è il dato dell'affluenza, c'era il timore alla vigilia fra gli stessi comitati referendari che il quorum non potesse essere raggiunto, così non è stato e anzi è stato abbondantemente raggiunto. Per commentare questi risultati insieme con noi c'è Gabriele Canè con direttore di quotidiano nazionale, il resto del cardino alla Nazione il giorno, che cosa possiamo e dobbiamo dire Gabriele? Possiamo e dobbiamo dire che si pensava che fosse un voto politico che prescindeva ovviamente dal merito dei referendum che se si va a scavare era un merito si parlava quasi di niente se vogliamo, un voto politico e come tutti i referendum, pochi pochissimi nella storia dei referendum italiani che avevano una grande valenza politica ha superato il quorum, quelli che non avevano valenza politica la gente non li ha secondati, questa è una valenza politica, la valenza politica è oggettivamente un segnale di negatività nei confronti di questo governo, al di là ripeto del contenuto dei referendum, il nucleare era già stato sospeso dal governo stesso dopo Fukushima, aggiungo che noi sospendiamo sempre quello che non abbiamo mai fatto, negli altri dice ma in Germania, in Germania hanno sospeso dopo aver fatto 30 centrali, noi prima non le facciamo le cose poi le sospendiamo, quindi noi abbiamo questa straordinaria capacità di non fare quello che non abbiamo fatto, l'acqua in realtà non cambiava praticamente niente perché le cosiddette multiutility potevano già a essere privatizzate oggi, i comuni non le hanno mai fatte per controllarne i consigli di amministrazione a riciclare qualche vecchio arnese che non era stato eletto, legittimo impedimento, la legge scade a ottobre, quindi parliamo di un paio di udienze di processi oramai in via di esaurimento, c'era il segnale politico a Berlusconi ed è stata una bocciatura di Berlusconi. Nell'arco di un mese la sconfitta al primo turno delle amministrative, la sconfitta nel secondo turno, la sconfitta nel referendum. Adesso è evidente che si guardi al passaggio del 22 giugno, quando il governo si presenterà in Parlamento per verificare quale sia e se esista la nuova maggioranza che lo sorregge. La Lega ha dato segnali chiarissimi, Maroni ha parlato prima di un governo che tira a campare, poi ha invitato Tremonti ad avere più coraggio, addirittura un'ora e mezzo prima che si chiudessero le urne il ministro dell'interno ha annunciato che il quorum, secondo le prezioni divinali, era stato raggiunto. Secondo te cosa può accadere, fermo nestando il fatto che poi c'è anche la donata di Pontida, ovvero il tradizionale appuntamento dei leghisti e alla sua base Bossi dovrà dare delle spiegazioni? La Lega è oggettivamente sempre più insofferente, ovviamente. Vede che questa coalizione, questo governo, questa maggioranza è logorata e sta logorando i consensi della Lega che sono andate, Lega che è andata male alle amministrative, è stata molto borderline su questi referendum, ma entrato nel mierino dell'opinione pubblica Berlusconi ovviamente nessuno ha voglia di farsi sparare addosso stando vicino al bersaglio grosso. La Lega però è anche dimostrato, al di là delle parole d'ordine, su cui spesso noi giornalisti ci soffermiamo per dire, Bossi ha sempre dimostrato grande senso tattico e grande senso di opportunità politica, quindi cosa succederà il 2022? Non lo so, può anche darsi che il governo non vada avanti, se il governo non andrà avanti perché la Lega fa un passo indietro è perché la Lega ha già individuato una nuova, non una nuova possibile maggioranza, perché credo che attualmente nessuno voglia andare a votare. Sentivo prima Bersani che individuava nella necessità di una nuova legge elettorale prima di votare come la priorità assoluta, quando ci sono priorità di questo tipo è perché non si vuole votare subito, poi è vero la vecchia legge fa schifo, ma la vecchia legge ha fatto schifo oggi come l'ha fatta 4 anni fa quando ha vinto il centro sinistra, quindi fa schifo sempre a chi perde. Credo che anche il PD, parlo del PD perché è il più grosso partito del centro sinistra, non abbia una gran voglia di votare, visto che a sinistra vincono molto le pulsioni più radicali, anche questi referendum sono molto il frutto delle pulsioni vendoliane e di pietresche, credo che ci possa essere una fase di decantazione, una fase di decantazione deve prescindere da Berlusconi, Berlusconi è uno che non fa passi indietro e neanche di fianco, non è facile, certo la Lega che come giustamente hai individuato tu lo snodo principale della tenuta di questa maggioranza, ferma non starà, un possibile governo a guida Tremonti con dentro anche l'Udc sarebbe un governo che secondo me raccoglierebbe ancora una abbondante maggioranza di consensi nel Paese. Grazie a Gabriele Caneco, direttore di QN quotidiano nazionale, il resto del carlino è una nazione del giorno e ovviamente appuntamento sulla televisione di quotidiano.net, buona giornata.